Ieri sera comisi i carabinieri della locale stazione al termine di perquisizione effettuate anche col supporto di unità cinofile arrivate appositamente da Catania per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 21 anni e uno di 20 a casa del primo i militari dell'arma hanno rinvenuto della marijuana suddivise 9 dosi del peso complessivo di 17 grammi nascosta all'interno del cassonetto di una serranda oltre alla somma di 150 euro a casa del secondo invece i carabinieri hanno rinvenuto sempre della marijuana peso complessivo di 43 grammi nascosta in questo caso in una busta di plastica all'interno di un armadio il tutto è stato sequestrato mentre due giovani dovranno rispondere davanti al magistrato di turno a Ragusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri proseguiranno naturalmente nell'attività di indagine per risalire al punto di partenza dell'immissione sul mercato della marijuana che ad oggi sembra la sostanza maggiormente consumata agli adolescenti e questo nonostante i danni che provoca la salute